Un dietrofronto umiliante per il governo del Regno Unito. Il ministro delle finanze, quasi Quatten, ha confermato che non si procederà col piano che prevedeva il taglio dell'aliquota fiscale per i redditi più alti. Descritta come un taglio delle tasse per i ricchi, la manovra era stata varata appena dieci giorni fa, causando turbolenze nei mercati ed in seno la popolazione. Abbiamo capito e abbiamo ascoltato, ha commentato il ministro, in risposta alla feroce opposizione delle altre fazioni politiche ed anche di alcuni parlamentari conservatori. Quatten parlerà alla conferenza del proprio partito a Birmingham, dove all'esterno i manifestanti hanno espresso la loro preoccupazione per i piani del governo. Piani che la scorsa settimana hanno causato il crollo della sterlina e minimi storici e costretto la Banca d'Inghilterra a lanciare un intervento d'emergenza per stabilizzare l'economia. Le proposte sono state anche criticate dal Fondo Monetario Internazionale, che ha affermato di prevedere che la mossa aumenterebbe la disuguaglianza sociale. Grazie a tutti.